L'effetto era quello che io già gli faccio un circuito lì dentro, vado lì dentro e lei va con me, visto? Ok, andiamo subito qua e da lì a questo punto possiamo andare, adesso dappertutto e continuiamo, ok? Abbiamo fatto questo lì, vado dentro, accanto e arriva, arriva, tac, tac e si ritorna, ok? Ok, chiaramente, questo viene, tac, 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 questo, ciro, questo. Ok, andiamo subito qua. Possiamo andare, tac, 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 ok? Allora si fa un campo di direzione, viene tutto qui, venire dal petto, se no lei non sa a dove si va, avanti, dietro, non lo sa. Allora si fa un campo di direzione, viene tutto qui, venire dal petto, se no lei non sa a dove si va, avanti, dietro, non lo sa a dove si va, avanti, dietro, non lo sa a dove si va, avanti, dietro, non lo sa a dove si va, avanti. Ok, è molto difficile, è molto difficile. Ok, è molto difficile, è molto difficile, invitarla, non è in avanti, spino, però invitarla da lì in là. La devo davvero chiamare, perché adesso abbiamo le opportunità, avanti, si arriva, si va, tutto combinazione, anche lì io spingo all'arrivare c'è avanti, però se adesso vado da lì, stop, stop, tiro, stop, stop, e la chiamo e vado, è molto importante aspettare la reazione e poi andare, è chiaro? La combinazione è la vostra, non è che sia un passo, una figura così pre-definita, si chiama il raspie e si vede che cosa dobbiamo fare, e questo è quello che muore, si gira un po' e lì la infilo, stop, giro, e questo qui è anche un freno, qui, io lo freno, stop, 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 anche lì lo freno, a volte vedo con i fili, vanno fuori, vanno fuori, vanno fuori, Ok? Mi giro due volte, giro, 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 vai, ok? Come ripetizione, anche se mangiare, no? E vinto, trasto, cibo, ok? Ok?